Buonasera a tutti. Signori, come state? Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo video post partita. Si è appena conclusa, Juventus-Lazio vince Juventus per 1-0, gol di Gleason Bremer che elimina la Lazio dell'ex Maurizio Sarri e porta la Juventus alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Partita all'andata e ritorno, dall'altra parte la tabellone a sorpresa Cremonese che elimina la Roma di Giuseppe Mourinho e Fiorentina. Quindi paradossalmente la Juventus potrebbe andare a riproporre il cammino dello scorso anno ma al contrario trovando eventualmente potenzialmente la Fiorentina in finale che l'anno scorso aveva eliminato in semifinale trovando poi l'Inter dove invece andiamo appunto a giocarci un doppio confronto. Andate e ritorno per vedere chi poi andrà a giocarsi la finale di questa Coppa. Un riassunto di questa gara. Juventus bruttina, Lazio brutta. Quindi Juventus brutta, Lazio di più. Perché non è stata sicuramente una gran partita né per una né per l'altra. C'è stato il minimo sindacale da parte della Juventus, il solito compitino se vogliamo che abbiamo visto in diverse partite quest'anno. Invece da parte della Lazio abbiamo visto tanto sviluppo dell'azione senza mai trovare concretamente uno sbocco negli ultimi metri. Credo che l'unico tiro verso lo specchio della porta, indirizzato verso lo specchio della porta di Perinsia è stata una punizione calciata da Cataldi e nulla più. Quindi veramente la Lazio che non ha mai creato nessun tipo di problema alla Juventus ma la sofferenza non è stata sicuramente nelle occasioni create dagli avversari. Quanto più è una partita in cui abbiamo fatto poco e niente. Quindi bene o male diciamo che questa sera la partita viene risolta da un cross di Kostic, un gol di Nuka da parte di Bremer, ma soprattutto un errore in uscita del portiere della Lazio Maximiliano che va a leggere molto male la traiettoria su una palla ritornata dentro da un calcio d'angolo perché la Juve sviluppa l'azione su un calcio d'angolo, cross dall'altra parte contro cross, costa di cerimetta in mezzo sul fine del fuorigioco e Maximiliano la legge male, malissimo. Devo dire la verità, io questa sera mi aspettavo di uscire dalla Coppa Italia, pensavo di venire eliminato dalla Coppa Italia perché mi aspettavo sicuramente una Lazio arrembante e una Juve con scarse motivazioni, devo dire la verità. Mi aspettavo più una Juve verso Monza piuttosto che quella verso l'Atalanta. Non è stata nessuna delle due perché non è stato né l'atteggiamento brutto che abbiamo avuto col Monza nell'atteggiamento bello che abbiamo avuto con l'Atalanta, è stato un atteggiamento neutro di una squadra che ha dato qualcosa sul campo, che ha meritato di vincere sul campo, ha meritato di passare il turno, ma ripeto banalmente perché dall'altra parte c'era una squadra che non ha messo nulla all'interno della partita, infatti sono stato molto sorpreso perché immaginavo che la Lazio e il Chessari potessero contarci invece sulla Coppa Italia che è invece l'obiettivo della Juventus in questo momento, insieme a cercare di recuperare punti in campionato ma alla fine della fiera il tifoso vuole festeggiare un trofeo, una Coppa. L'Europa League mi sembra abbastanza ambiziosa per questa Juve, già la Coppa Italia mi sembra abbastanza ambiziosa, credo che comunque la Juve abbia la possibilità di vincerla, la Coppa Italia, però sicuramente non sarà facile per niente perché già l'Inter sarà un avversario tosto e immagino che dall'altra parte possa alla fine del doppio confronto passare la Fiorentina e immaginare di trovarsi in finale con la Fiorentina potrebbe essere anche una motivazione in più per Chiesa e Vlaovic che sono stati un po' la coppia d'attacco della Juventus di oggi. Era l'unica vera motivazione che mi dava quella giusta volontà di vedere la partita proprio perché in questo momento il calcio giocato faccio un po' fatica a digerirlo lato Juve e ragazzi non so più come dirlo, purtroppo questa sentenza mi ha tolto un po' di energia lato calcio giocato è vero che questa era un'altra competizione, non era il campionato quindi sicuramente c'era ancora tutto da costruire tutte le possibilità di arrivare in finale, di alzare il titolo e di vincere la partita ma per forza di cose poi le cose sono collegate perché la Juve la penalizzazione ce l'ha in campionato ma la botta psicologica arriva in tutte le competizioni se arriva per noi non immagino come possa arrivare all'interno della mente invece dei calciatori quindi questa voglia di vedere Chiesa e Vlaovic finalmente insieme è la prima vera opportunità insieme perché non erano mai stati convocati nella stessa partita con tutti e due ovviamente disponibili perché Chiesa era stato convocato mi pare per la finale di Coppa Italia dove proprio Vlaovic aveva fatto il gol che momentaneamente aveva rimesso sotto l'Inter e alla prima vera occasione giocano insieme credo che Chiesa nel 3-5 di Delegri possa giocare solo lì in quella posizione però si è visto anche stasera che è stato abbastanza castrato le sue caratteristiche sono ben altre ha dato comunque qualità perché quelle poche volte che il pallone gli è arrivato ha cercato una verticalizzazione perché sa che Vlaovic adora attaccare la profondità però Chiesa non è quel giocatore di raccordo come può essere Di Bala o come può essere pure Di Maria sebbene con altre caratteristiche perché ovviamente Di Maria preferisce partire dall'esterno un giocatore completamente diverso che in quella posizione secondo me fa tanta fatica ci può giocare, ci ha giocato anche l'anno scorso ha risolto un Juventus-Celsea 1-0 però è una partita molto complicata stasera c'erano dei valori in campo secondo me un po' sfalsati perché mi aspettavo una Lazio che volesse anche vendicare quella partita di campionato probabilmente la migliore prestazione della Juventus di quest'anno beh, diciamo che siamo andati abbastanza lontani in realtà da regalare un altro spettacolo simile a quello del campionato dove comunque abbiamo trovato un'altra vittoria a uno stadio che questa sera aveva una curva molto calda perché si sentiva anche dai microfoni ma una tribuna ancora molto fredda e molto vuota vuoi per il clima, vuoi per il momento della Juve vuoi per i risultati, vuoi per lo spettacolo però sicuramente non era nemmeno lo stadio dell'altro giorno di Monza vuoi perché era una domenica pomeriggio e quindi c'era anche più possibilità può essere, può essere però sappiamo che l'Eventus Stadium in questo momento è una sorta tra virgolette di problema perché io noto sempre più questa volontà del tifoso dell'Eventus di allontanarsi un po' dalla squadra non mi fa impazzire io sono il primo a dirvi che faccio un po' fatica oggi a godermi davvero una partita di calcio giocato poi ha maggior ragione se viene fuori una partita oggettivamente brutta perché sia la Juve che la Lazio non hanno fatto niente per regalare spettacolo però io capisco oggi il tifoso che fa un po' più fatica a essere completamente dentro alla stagione completamente dentro le partite completamente dentro le competizioni però la Coppa Italia è importante per noi quindi tutto sommato c'è da essere soddisfatti per il passaggio del turno sebbene derivi da una prestazione non proprio eccezionale questa non me la sento perché l'altro giorno qualcuno mi ha detto ma come fai a dire che la prestazione col Monza deriva dalla penalizzazione ma attenzione io non ho detto quello io ho detto che banalmente l'atteggiamento poteva derivare dalla penalizzazione le prestazioni brutte quest'anno ne abbiamo viste tante penalizzazioni oppure no stasera quell'atteggiamento non l'ho visto questa partita è stata preparata così difesa tutti dentro la linea della palla difesa passiva poca volontà di andare a fare male poco pressing soprattutto nel finale qualcosina si è visto ma poco pressing offensivo da parte della Juventus nei confronti della Lazio volontà di tenerli lì difesa posizionale e poi vediamo cosa ne viene fuori per fortuna va alla fine il portiere della Lazio ha letto male la traiettoria e ci ha regalato questa semifinale contro l'Inter che sarà sicuramente qualcosa di più intenso da giocare perché poi le partite andate e ritorno iniziano a diventare qualcosa di simpatico a me piacerebbe vederle anche in realtà nei quarti o negli ottavi perché l'Italia così sembra una competizione un po' strana Lazio che ci prova soprattutto da fuori Juve che ha in realtà un paio d'occasioni abbastanza importanti una di Kostic che tira in porta ma non è importante così come quella di Rabiot che si ritrova solo al centro area di rigore della Lazio e di testa non riesce a trovare l'angolo giusto poi per fortuna invece c'è appunto il gol di Nuka di Gleason Bremer la sto rivedendo anche adesso mamma mia ma dove va Maximiliano? ma dove vai?